Assessore Donazan, buongiorno, è la prima volta a Rovigo per l'inaugurazione della scuola, per noi un onore. Io credo molto che la regione sia una ricchezza nelle sue complessità e la prima volta che inizio, inauguro l'anno scolastico e ho scelto Rovigo quest'anno, perché a mio parere anche le città che vengono considerate un pochino più periferiche meritano tutta l'attenzione delle istituzioni. Oggi è una bellissima giornata perché si riprendono le attività scolastiche, io sono dirigente di una scuola che è sempre stata una scuola molto accogliente e conto che si continui a fare in modo che la scuola sia un elemento che nella vita di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, un forte elemento di crescita e che li porti in maniera sempre più importante raggiungere l'autonomia e il benessere nella vita. Siamo qui alla Casalini, scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Rovigo 3, siamo qui per inaugurare l'avvio dell'anno scolastico. I ragazzi tra qualche minuto arriveranno qui, tutti riformuleremo gli auguri di buon anno scolastico con l'invito a impegnarsi nello studio per acquisire tutte quelle competenze che poi gli serviranno per realizzarsi nella vita, nel lavoro, nella vita privata, ma con l'augurio anche di acquisire quelle competenze anche relazionali, di essere rispettosi nei confronti anche dei compagni, soprattutto dei compagni che hanno qualche difficoltà, qualche diversità. Siamo tutti diversi, ognuno ha delle caratteristiche proprie ed è importante imparare a vivere insieme nella diversità.